benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo nel nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antonio benvenuti su gente di ruolo e siamo ancora qui su gente di ruolo con la nostra campagna dopo un colpo da ladri provetti che ha visto un colpo a due di timur e garot uscire ancora vivi e per la maggior parte interi in una cosa abbastanza anche pulita e silenziosa è un furto inaspettato e particolarmente remunerativo siamo adesso di nuovo al completo quindi il terzetto di giocatori che ci accompagna in questa campagna è qui con noi con nilo lunga notte a tutti luca buonanotte e nicola e adesso chiusa quindi la parte del colpo iniziamo iniziamo con i downtime quindi se dite partiamo con la parte meccanica poi vediamo mano a mano come come le scene ci chiamano quindi coin cominciamo allora io direi che questo è stato un buon colpo avete preso veramente qualcosa di di interessante quindi direi che vi beccate una cosa come sette coin l'abbiamo già svenduto il l'automa o no perché lo vorrei fare vedere al nostro caro goal allora su questo diciamo considererei anche il considererei la vendita dell'automa che ha tutti gli effetti il grosso del vostro bottino poi avete comunque una piccola parte che deriva anche dal altre cose che avete preso la strumentazione di di pregio eccetera considera che comunque tu da tenere per te hai comunque il libretto che dopo potrò dirti cosa cosa contiene perfetto quindi per adesso intanto segniamoci coin ok esattamente intanto ne ho segnati quattro sulla di crivo ok io ve l'ho messo in tavola comunque teniamo conto della dei soldi in tavola dopodiché ne prendete due in più giusto perché voi avete il vostro smerciatore di fiducia ricettatore di fiducia quindi uno e due e poi mal che vada direi di fare due chiacchiere con il simpaticissimo appunto edward sul fatto che sarà lui in pratica a smerciare questo questo strano aggeggio finalmente ha qualcosa da smerciare da noi insomma e venderlo al miglior prezzo insomma perché è anche una merce abbastanza particolare da smerciare e in più sempre a riguardo dei coin se non mi sbaglio voi li potete prendere dal come dire dal quello che guadagnate dalla gestione del vostro della vostra visca del luogo per incontri giusto quindi cosa dovete tirarmi nulla sarebbe tire bisogna fare un tiro su tire meno ok quindi se volete nel frattempo ecco vi conviene prima che io vi assegni il la rep fare il passaggio di tire ok no oppure se ce l'avete oppure se vi serve ve la do e poi passate quindi avete due rep per uno di tire che era sopra di voi quindi stiamo a 4 ok allora siamo allora ributto giù tutto e lo faccio iniziare da due e metto tire 1 e a questo punto siamo a tire 1 siamo a presa forte no 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 voi iniziate il gioco come zero strong ok zero strong e quindi spendiamo otto monete e quindi a questo punto spendete otto monete per andare in 1 week esatto e siamo a 1 week e poi dopo calcoliamo i profitti della della visca clandestina che convenienza esatto ok rimanete con un coin sulla tavola intanto e siete ufficialmente di tire 1 quando passate di tire mi sa che c'è qualcosa anche che c'entra con lo stash forse qualche aggiustamento minore da fare però questa cosa sarebbe da vedere con calma vabbè ovviamente non lo sono preparato la riguarderemo poi avanti intanto la stasha sarà un sacchetto in fondo a qualche pozzo qualcosa del genere ok esattamente ok e adesso quindi vediamo quanto elizza avete è stata brava a gestire il il vostro posto spinto anche comunque dalla vostra nomea bisogna fare il tiro di di tire che però non ha ok solo cliccando si fa bonus dice nessuno o uno non lo so tiro solo il tire si 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 la compagnia dei pazzi 2 meno 3 di it niente niente dobbiamo dare soldi no diciamo che probabilmente il il cambio gestione è un po spiazzato la cliente della standard ci dovrete mettere un po più di impegno per o semplicemente non è adesso il momento in questa settimana le cose non sono andate così bene arriveranno dopo ok pure elisaveta si è mangiata tutto ma mi immagino tutto per riarredare il locale immagino questi tre spettatori entusiasmati super tanto da dalla mostra di romeo e giulietto versione zombie però sono solo tre ok e avanti hit quindi il colpo è stato contenuto ma anche in realtà meno forse quindi vi direi che avete un 1 di base perché sta tra 0 e 2 tra smooth and quiet and contained quindi sarebbe un 1 però un patto col diavolo vi aveva dato un più 2 quindi andiamo a 3 in tutto ok che possiamo cercare di ridurre perché abbiamo slipper in maniera abbastanza buona dopo esatto ok fatto questo possiamo tirare gli entanglements e a questo punto poi diciamo finito questo cominciamo a giocare a giocare qualcosa così vedo io quando giocarmi gli entanglements e voi potete 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 entrare un po in scena ricordaci che dobbiamo che tiri 2 ci scegliamo noi certo tirate pure voi tanto io non tiro quindi il tiro l'ho fatto sulla base del wanted label ok quindi 6 no il wanted label è uno vostro non è elite no no avevo letto it ok il vostro it quanto è adesso 6 uh bello tabellina del 6 o più questo è interessante vogliamo ridurlo eh ma gli entanglements si tirano prima eh va bene perché subito dopo il colpo si vai e tira due volte luca e voi continuate a far tirare luca così almeno poi gli scaricate addosso le colpe vai sì ma ovvio è ovvio è ovvio un 6 e un 2 ma perché tiri due è perché abbiamo slipper perché possiamo ah ok sì sì perfetto ok tenere quello più favorevole o quello che ci piace di più allora ragazzi con il 6 sarebbe arresto cioè pigliano di voi lo portano dentro evitiamolo magari ok mentre con il 2 è un po' più facile che interrogazione arrestano bull ok ti fanno un interrogatorio meglio l'interrogatorio che l'arresto dai cosa comporta l'interrogatorio? oppure flipped qualcuno vi volta alle spalle qualcuno dei vostri alleati contatti patroni clienti o un gruppo di clienti appunto vi volta alle spalle perché siete troppo esposti ma io se avete voglia opterei per interrogatorio e manderei gaul va bene perché c'era anche quel patto col diavolo che tu ti eri esposto particolarmente nell'ultima volta quindi ci può stare che in realtà questa cosa è avvenuta nell'intertempo in cui non ti abbiamo visto o di lì a poco ok allora anche perché perdonami mi immagino che dato che comunque gaul è un nobile aspetta ti fermo solo un attimo perché una delle prime domande leggendo l'interrogatorio è ok come hanno fatto a catturarti e quando quindi probabilmente mi stavi rispondendo ma volevo farti una domanda chiara ah ok devi farmi le domande perfetto no se solo questa che comunque un interrogatorio non c'è un arresto vero e proprio ok quindi dato che gaul è un nobile e questa cosa è girata non penso che i blucoz siano entrati in casa sua sfondando la porta ed entrando a fare un arresto quindi gli è arrivato il classico mandato di comparizione ok però il padre ovviamente che è comunque un nobile della città o il nonno decidiamolo secondo quello che può le cose più senso gli ha detto che deve andare e non rompere i coglioni allora gaul ha messo a posto un po' la tana in maniera da non far sembrare che se gli veniva una perquisizione le avrebbero scoperto uguale ma comunque da non farla spesa troppo e si è diretto al commissariato ok ti va bene? si allora perché me la vedo poco che un nobile così senza motivazioni venga preso in mezza strada sbattuto in car ok allora la parte meccanica dice questo spendi tre coin per pagarti la come dire la via d'uscita oppure ti picchiano con un ferite di livello 2 beccati una ferite di livello 2 oppure digli quello che vogliono sapere e beccatevi tre hit puoi resistere comunque ognuna di queste conseguenze in modo separato ma tu devo scegliere una delle tre no? ne giochiamo? ti va? si perché così decide un po' in diretta come reagire a gaul ok allora la scena si apre appunto in questo stanzino con una piccola luce di elettroplasma che sfarfalla e un tizio annoiato avrà l'età di La Rose questo evidentemente comunque è molto più consumato di La Rose sicuramente ha scalato ha scalato la piramide di potere e gli è costato parecchio vedi che un tic nervoso gli fa costantemente muovere le dita della mano destra e schioccare la nocca del pollice e ti guarda dall'alto al basso squadrando il tuo vestito di ottima fattura e dice non avrei mai pensato di avere uno strato vario seduto su quella sedia commissario Larsson affascinante conoscerla si guarda non penso di essere così affascinante comunque girano voci a riguardo di una sua apparizione o comparsata dovrei dire in un luogo non del tutto rispettabile se questo è il termine che vogliamo usare anzi del tutto deprecabile sembra che il problema principale è che in quel posto ci girano soldi soldi che nessuno vede e questa cosa dà fastidio non so se mi intendo è un posto nel silk shore non so se è tanto tempo che non ci va e appoggia le due mani sulla sulla scrivania avvicinandosi a te vedi che vediamo vediamo Gaul che praticamente lo guarda quasi con come se non lo guardassi ok cioè nel senso lo guarda un po' con menefreghismo non sono pratico del silk tendenzialmente trovo abbastanza le pratiche della carica sorride malignamente finché ti guarda e vedi che schiocca le dita e due ragazzacci praticamente si fanno si fanno avanti nella stanza o forse erano già lì si fanno avanti nel cono di luce e e vedi praticamente due picchiatori di strada e fa odio anch'io le pratiche che coinvolgono carne spappolata quindi vediamo di risolvere questa cosa senza spiacevoli incidenti la strada da qui alla sua villa è abbastanza pericolosa specialmente in questi momenti del giorno ok vedi che Gaul si tira sulla manica ok come quasi se fosse pronto a fare una scazzottata con calma ma con un'eleganza proprio se quelle giacche lunghe nobili anche la camicia sotto elegante e così via e dalla cravatta tira fuori non l'aveva visto nessuno quando l'hanno chiamato ma non se l'ha aspettato ma si è presentato lui per primo quindi non l'hanno controllato poi comunque tira fuori praticamente una lama seghettata sai quello un po' da da sega proprio per tagliare il legno la carne forse e vedi che davanti ai tizi si pianta quella sega nella carne e inizia a incidere no? ok e fa io non credo e stacca la sega la ripianta nella carne non è lui è un medico quindi non è una ferita si si lui sa cosa sta facendo lui sa dove sta tagliando non credo e alzano e schiocca giù il sangue come con una katana che il dolore sia un problema non crede neanche lei è affascinante quanto il corpo sia solo un guscio e lo guardo quasi per minacciarlo e lui fa mezzo passo indietro si guarda intorno e dice buttate fuori questo psicopatico e fa un cenno come la mano come dire ma va te e tutta la tua famiglia di nobili ok vorrei resistere con risolvo immagino immagino vai molto bella la descrizione si capiva la meccanica dalla scena eh si mi ha immaginato proprio così scusa ho fatto una cavolata perché ho tirato un botto di dadi un botto di dadi no no ho sbagliato quanti ne dobbiamo prendere prendiamo i primi no no vai vai due e due quindi ok figlio quattro di stress perfetto quindi questa ce la siamo giocata e sappiamo adesso perché sei particolarmente messo male e perché non ti abbiamo visto in giro probabilmente a valle di questo ti tengono d'occhio per un po' e tu righi dritto e e le cose e le cose si sistemano ed ecco perché non sei non sei in scena eh da un po' ti ho detto niente perfetto bene però mi segna il commissario Larson eh segna segna ok ritorniamo a tutti quanti se volete giocare il come dire il il ritrovo nel covo prima di vendere prima di vendere la merce se no arriviamo a quello e da lì andiamo avanti vorrei solo dire che mentre Goal era a stagliuzzarsi da solo in centrale nelle giacche blu e noi stavamo a diciamo ingaggiare nei nostri vizi così che diminuisci lo stress dunque dunque Garrotte o Lucilla era a Whitechapel e ho diminuito il diminuibile ok hai fatto un'azione o due giusto per sapere ho fatto solo un'azione perfetto tenente alla stessa maniera eh si è diretto all'orfanotrofio a fare quello che fa per pulirsi della coscienza in questo periodo appunto eh si è ha diminuito il proprio stress qui ti vediamo dopo i turni massacranti di lavoro che fai perché comunque tenente Timur è uno che lavora tutto il giorno fare comunque le ore piccole per seguire i piccoli dell'orfanotrofio Stratovarius e poi dormirsi nei sonni pacifici in un alter ego come dire positivo e empatico col mondo sì mentre tu stai uscendo dall'orfanotrofio vedi che Gaul ti attende immagino che siano le ore le prime ore del del buio anche se del buio del mattino il buio del mattino sì esatto e con Gaul c'è anche Garroth e Garroth fa come vanno le nuove leve e sorride ironica riferendosi agli orfani vanno bene vanno bene dottore tenente riguardo non so se hai un un vendaggio al braccio no me ne sbatta anche abbastanza vedi che praticamente la manica è intrisa di sandi secco diciamo questo punto quindi quel marrone ruggine anche Garroth fa finta di niente si tiene ancora un po' la spalla dall'altra parte però Gaul è il Gaul c'ha il nome per un motivo tenente un'occhiata mi è giunta voce che vi siete diretti in un certo luogo in mia assenza già guardo Garroth e gli faccio è andata meglio dell'ultimo Garroth accarezza una specie di strano automa che presto svenderemo immagino però lo volevo comunque far vedere a Gaul perché potrebbe interessargli ed è una una cosa molto piccola grandezza grillo falena da quanto ho capito dai colori metallici però da quanto ho capito contiene fondamentalmente uno spirito o un'anima o cose del genere diciamo che l'unica cosa visibile è una piccola fialetta lunga quanto un'unghia con una luce bianco-azzurra dentro un qualche tipo di plasma e la carezzo e poi la faccio risparire dentro qualche tipo di borsa di velluto interiore del corpetto e sorrido questo in quanto l'è andata meglio sì e Edward pagherà bene per questo e chissà per questo e faccio vedere un libretto con dentro delle informazioni ho capito abbastanza interessanti che ho sfogliato mentre stavo svagandomi a Whitechapel in piena vista di Avelok dunque ok e tu sai cosa c'è in quel libretto ma non te lo dico adesso lo tengo come sorpresa tra un attimo quando capirete il legame ti dirò cosa c'è scritto lì io aggiungerei che nel tempo che mi ha concesso per riprendermi faccio una visita a Riven la mia farmacista di di l'ultimo grido per cercare di farmi fasciare la spalla che ha avuto un brutto colpo nell'ultima nell'ultima spatella viene anche Garrott ed è divertente perché su sto su sto tavolino della farmacista c'è sia il tenente che Garrott con la spalla indolenzita ok la tua spalla di che livello era la ferita che avevi di livello 1 ok quando lei ti come dire ti spoglia dei vestiti comincia a controllare la ferita ti rendi conto che la ferita la botta che avevi preso in realtà è peggio di quanto ricordassi vedi che il il nero dell'ematoma che ok tu sai bene come com'è come si gestisce tende prima al nero poi a quel giallo verde poi via via va a scomparire vedi che invece è diventato un grigio opaco e si sta allargando lungo delle linee che sembrano in qualche modo scimmiottare scimmiottare le vene che hai sul braccio e vedi che sta scendendo lungo la muscolatura fino a quasi arrivarti al gomito nel momento in cui Raven comincia a guardarti a toccare la pelle eccetera e ti rendi conto di aver effettivamente perso anche parte della sensibilità del del braccio ok è una ferita di livello 2 mentre dall'altra parte c'è la la spalla indolenzita e le cicatrici rimaste dalle attenzioni dolci del goal sotto le sue lame che comunque va ancora probabilmente trattata con un qualche di impacco d'erba qualcosa del genere e lei è sull'altra direzione dalle spalle a tenente ed è anche lei a petto nudo e si fa trattare fondamentalmente però è girata e fa questo commento di spalle voltando solo la testa ai suoi compagni immagino che ci sia lì anche goal perché siamo in viaggio probabilmente per il nostro covo dal silkshore che stiamo venendo dall'orfanotrofio e fa forse dobbiamo smettere di prendere cose a spallate ok Gaulo tu sei lì e vedi vedi questa cosa e ti rendi conto che quella non è una non è una brutta botta semplicemente e cosa sarebbe? c'è qualcosa di di più un qualche tipo di consunzione legata probabilmente al all'ectoplasma oppure a un qualche tipo di effetto effetto occulto interazione col ghostfield o cose così sta praticamente mummificando letteralmente il braccio tenente avete anche avuto il piacere di reincontrare il vostro amico spettro ce l'ho sempre intorno al mio amico spettro effettivamente si guarda intorno timur vi ha per caso aggredito? non esattamente cosa ha colpito la vostra spalla di un dottore dietro una porta e gruff non c'è non si nell'ordine beh tenente se volete potete continuare a mantenere le vostre informazioni per voi e perdere il braccio oppure aprire la bocca magari ma quale informazioni gul è esattamente quello che è successo e con cosa vi ha colpito visto che il vostro braccio sembra aver interagito col ghostfield in maniera negativa no lui ha colpito il suddetto dottore non il dottore ha colpito lui e devo dire che il dottore sta molto peggio però non credo ci sia stata alcuna interazione in quel momento perlomeno e quella ferita com'è questa volta? con il ghostfield beh quella ferita da quanto ho capito è mondana poi il resto io non ho visto niente mentre Garo viene trattata posso tirare il tiro di io devo riempire una nuova progress clock perché ce l'ho a uno esatto due bonus giusto? allora partiamo dal tiro di Gaul e da lì sommiamo il bonus del vostro alleato quindi 2 di 6 ok quindi sono 2 di 6 ah li tira lui per me ok no no tiri tu è la tua azione dunque sia il tuo bonus che quello della farmacista sono 2 di 6 in più no no è proprio il totale è il totale va bene ho tirato ok 4 quindi sono 2 tic non ce l'ho ancora questa dannata cosa va bene quindi hai usato due azioni downtime tu? hai usato quella per lo stress e quella per cercare di levarmi la mia ferita che ho ancora te ne offro una delle mie quindi tanto io ho quella extra come se praticamente Gaul ti dà una mano oltre che con diciamo la ferita ti impone quasi di stare ferma e di continuare a subire i suoi trattamenti se Garot non si è ancora guarita probabilmente metti le mani dentro al trattamento di Riven esatto si tipo lei non se ne intende di quel che sta facendo un'occhiata di Riven da sopra la spalla finché si allontana verso il retro del negozio il fatto che forse ha ragione perché Garot non è il paziente tipo prova e vedi proprio che lui prende la spalla di Garot e tac la spinge con un urlo la cosa bella è che a un certo punto mi immagino il dottore che dice perché tu Garot non funzioni come gli altri esseri umani esatto purtroppo non hanno ben chiaro come funziona la tua fisiologia questi idioti e tac li si legge e lo ha in volto ma il suo volto lo vede soltanto Riven perché il dottore gli sta si sta slogando e rimettendo la spalla da dietro ok e poi lei si riabbottona si riveste si stringe i suoi corsetti vari e cose del genere si rinfila le lame incrocia le braccia e scruta tenente scruta Timur che è ancora lì che sta stai marcendo vivo Timur e sorride dottore se vuoi farmi un gather information su quello che sta capitando a Timur tira pure ok per vedere quanto ne puoi capire allora più che un gather information fammi pensare cosa si si gather information è giusto per dirvi che è un tiro di informazioni che non ha conseguenze è solo per vedere stavo pensando se c'è qualcosa che potrebbe avere senso tra le cose che ho secondo me il tuo Physiker con Stadi ti permette di farlo in maniera diretta che Physiker appunto Physiker ti permette di usare Tinker se no al posto che Stadi giusto? no non c'è scritto cioè posso ah no si puoi Tinker with Bones però Stadi è scritto in piccolo no Stadi però tiro su Stadi buono un 5 ok un'informazione sufficiente trattandola ti fai l'idea che la la ferita sia una ferita mondana il problema è che dopo la ferita come dire qualcosa la sta la sta peggiorando e arrivi all'ovvia conclusione che sia quella quella specie di maledizione che il dottore si porta addosso fino adesso effettivamente non era mai stato ferito non ho capito cioè il dottore chi? scusami Timur tenente tenente scusate ho sbagliato ho invertito le parole tenente non era mai stato ferito effettivamente da quando era stato maledetto diciamo e sembra che questa cosa stia cavalcando la un piccolo una piccola incrinamento del suo stato fisico vedi proprio che Gaul sorride cos'è il casico ghigno di chi ha scoperto qualcosa di interessante affascinante tenente affascinante cosa? benvenuto tra i soggetti del Gaul credo che l'entità che vi perseguita abbia approfittato della debolezza del vostro corpo per insinuarsi in un certo senso simpatico quando Riven offre degli antidolorifici per la spalla a Lucilla lei le fa di no di tenerli per qualcun altro credo che il vostro organismo sia praticamente marcendo sumumificando se non ho ben chiara l'idea avrei bisogno sarà l'autopsia poi sei convinto che tu l'unica cosa che puoi fare è trattare come dire l'immediato ma non hai idea sulla lunga questa cosa come evolva sono convinto ma non ha detto che il tenente non me l'ha chiesto no ma il tenente infatti farebbe scuoterebbe il capo e direbbe facciamo questa ferita e lasciamo perdere un garazzo si muove verso l'uscita e guarda fuori dai vetri molto spessi di questa apotecheria finiremo a chiedere aiuto alle sorelle oscure io intanto parlo contenente lo guardo e gli faccio beh posso comunque lenire i sintomi e rallentare il processo sarà interessante e praticamente vedi che tiro fuori dalla tasca qualcosa tipo una siringa delle mie e te la pianto nella spalla inietto qualcosa tipo a bruciapelo una spanna dentro è la stessa sostanza che ho dato al tipo quell'elettrica per farlo vincere la cosa vedi proprio le scariche senti proprio una scossa elettrica nel braccio ok tirami questo tiro di cura e deve tirarlo Luca si si e sono il più uno della due dadi ok cioè per Riven e per Gou ne ho tirato uno solo ne tiro un altro perché essendo Riven una tua amica ti dà un dado extra ok due tre ok se avete altro da fare nella scena se no chiudiamo qui e passiamo alla alla prossima guarda riprovo direttamente a fare healing in questo modo così mi spreco la la terza azione che ho in più occhio occhio che non stiamo abbassando l'ite ah già possiamo anche usare gli soldi per farlo no 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 beh abbiamo anche la repu aspetta un attimo perché solo due dadi due no perché uno per l'apotecheria e l'altra per si però anche il vostro tire ah no allora allora cambia tutto perché perché io vabbè facciamo così io ho fatto quello che ho fatto ok io ne tiro un altro ma scusa ma non tirate mai healing roll è un bel è un bel 5 ok in realtà non lo so forse dopo devo come al solito riguardare basta cliccare healing vediamo cosa succede se lo tiro io due dadi vabbè anch'io ho fatto no l'editrice è 0 dice ok quindi è giusto parti da 0 più 1 per il per i physical più 1 per lei è giusto 2 ok ok a posto a posto allora un tick e basta e me lo tengo così ok e hai ancora un'azione ho ancora un'azione quella la userei per abbassare ma scusami ma curati o usiamo tanto abbiamo due di reputazione no con un punto di reputazione facciamo un'azione extra tanto adesso non è che dobbiamo cioè piuttosto che usare un coin preferisco usare la reputazione siete ben lungi da passare e sono 16 coin ok ok a posto allora mi curo e usiamo un punto per la reputazione e un punto di reputazione per il per l'it vai vado ritiro e là un 6 buono questi sono 3 tick e allora ho fatto i 4 di healing pieni perfetto e la riporti quindi a livello 1 ok comunque mi continuo a segnare cancrena spiritica ok mettila a livello leggero però ce l'hai giusto per raggiungere la fase di amministrazione giusto per raggiungere la fase amministrativa passare di tire ci dà qualcosa perché abbiamo passato di tire e reputazione allora la reputazione è quella che vi fa passare di tire questo cambia che tutti i vostri alleati quindi aumentano con voi quindi anche adesso la quindi la come dire la farmacista si considera di tire 1 e quindi è per quello che vi dà un dado prima invece tiravate 0 dadi quindi 2 è il peggiore e tutto il vostro equipaggiamento sale con voi se voi ce l'avete fine adesso si considera equipaggiamento di livello 2 e dunque ve la giocate al pari con crew di livello 2 questo è l'effetto generale del vostro passaggio di tire cioè adesso sostanzialmente ve la vedete al pari con gente del vostro livello potenzialmente è dato che abbiamo quality scalate ancora addirittura di 3 ok perfetto esattamente consideriamo di 2 se siamo con specifici perché noi siamo a tire 1 ora 1 più 1 per il fine più 1 per il quality e quindi andate al pari con un livello 3 per alcune cose si per alcune cose di fine si si perfetto perfetto ok nuova scena voi che piazzate il il la cavalletta meccanica a il vostro contatto Edward io non ci sono ok la scena il contatto con Edward questa volta è un caffè del night market abbastanza vicino in realtà al negozio di maschere e costumi di di e vi trovate in un posto abbastanza affollato come al solito in genere Edward preferisce i luoghi in piena vista e con un via vai e quando apre la scatola che contiene l'oggetto la richiude e vi guarda un po' stupito e dice è un pezzo degno di nota lo potrei piazzare per un bel po' di soldi voi sapete cosa avete preso vero? e vi guardo interrogativo annuisco garotte incrocia le gambe non ne avete la più palida idea questo è un'automata di vendono nel mercato nero per spiarsi tra altri ufficiali membri del governo e altri politici rango e la cosa particolare di questi oggetti è che sono di contrabbando perché gli unici che sono autorizzati a usarli e costruirli sono i warden su delega degli alchimisti imperiali e solo loro ne possiedono effettivamente i progetti di costruzione questo da quel che ne so non è stato rubato dai depositi imperiali è un po' più grezzo per alcuni aspetti ne ho visti più di uno nella mia carriera però è una buona copia è ben fatto è quasi concluso quindi lo potrei vendere per un bel po' di soldi complimenti l'affare è già stato fatto dunque Garrotte annuisce giro di soldi da lì a breve e poi si stiracchia mescolando questo questo tè tiepido che ha davanti a sé si rilassa sulla sedia comincia a sorseggiare dice giusto per curiosità progressi a riguardo del nostro amico del ministero della preservazione so che la settimana scorsa è passato per la stazione centrale ci stiamo lavorando quanto tempo è che abbiamo lo chiedo a mente locale abbiamo ancora avevate tre tre passaggi uno è già stato fatto sì ci stiamo lavorando non c'è nient'altro da dire fa un cenno della testa riappoggia la tazzina e se ne va dal locale lui questa volta e adesso ti dico cosa c'era in quel libretto lì perché non volevo giocarmela prima sostanzialmente quel libretto lì è il contiene informazione sul contatto che praticamente ha svenduto comunque trafugato i progetti di quello che quei tizi lì producevano quindi questo questo disegno di automata che altri non è che un appartenente agli alchimisti imperiali una certa Mirlan Tash Newman dovremmo scriverlo da qualche parte Miriam Mirlan Mirlan questi gli uomini imperiali quindi sostanzialmente adesso avete una traccia di un qualcuno di come dire di 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 alchimisti imperiali ti avevo promesso qualcosa di potente non vuol dire che sia vostro alleato però sapete una persona che che ha una moralità flessibile o meglio non sapete secondo che leve però non hanno piegata a volte fa molto più comodo avere un nemico manipolabile che un alleato inutile e comunque in quel momento passa Edward dalla vetrina tipo lo salutiamo lo salutiamo mentre lui sparisce nella folla di night market e comunque condivido questa informazione con i miei compagni magari in sede separata visto che però comunque la comunico sta cosa e il libretto finisce nel nostro immagino che poi si passiate il tempo che vi serve per per studiarlo eccetera eccetera comunque ovviamente se se l'informazione è arrivata qui questo deve essere questa deve essere un imperiale che battica DOSFOL con una certa con una certa regolarità insomma ed arriva ed arriva probabilmente con il treno chi lo sa magari la cosa è sfruttabile per il colpo che c'è motivo per cui oltre a spendere uno di reputazione per quello che avevamo detto io proporrei di spenderne un altro per cominciare a girare intorno a questa cosa ok allora se intanto volete farmi il tiro per ridurre l'hit quello lo diamo sullo sfondo diciamo mentre gestiamo altre cose per tirare consort potete tirare command potete tirare quello che volete secondo quella che è l'azione che voi fate per ridurre l'hit quindi è un action roll in base a cosa fate c'è il solito discorso di tic fate 1,3 1 tic 4,5 2 tic 6,3 tic critical 5 tic quindi decidete voi la linea d'azione se è parlare con gente intimidire gente o ditemi voi qui mettono consort e command come alternative command è più l'intimidazione da tutta ci non è visto niente consort è odiare le leve giuste io direi se agisce tenente userei consort perché appunto agendo come tenente magari impastrocchia un po' di di resoconti mette mette magari le varie le varie ronde su false piste insomma confondi un po' le carte andando avanti e indietro dagli uffici vai posizione eccetera non considero niente bonus dai ne abbiamo 1 1 per lo slippery e vado un bel 6 ottimo con i 6 liberate 3 tic se lo portate su a risultato critico ne liberate 5 come tutti i tiri sì sì come tutti i tiri che diciamo è l'avanzamento che più conviene alla fin fine perché con una spesa solo padagli 2 tic in pratica da 3 a 5 ci rimangono 3 di hit non so se vogliamo fare altro ma è che sale subito è un colpo male e tra l'altro il nostro profitto dipende dall'hit dunque secondo me ci conviene cercare di aggirare secondo me sì sì avete un coin in tavola tutto sommato ci starebbe così almeno abbiamo ancora uno di repu e io ho ancora due azioni scendete a uno e siete a posto però il fatto è che se uso la mia azione devo tirare sulle mie no 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 ma buttiamo il coin per abbassarlo al minimo possibile ok spendendo questo lo porti giù di 5 quindi resti con uno che è assolutamente pulita come cosa buono allora intanto vabbè io ho la mia pistola fatta e volevo buildarla quindi per costruirla ok quindi fatto dovremmo deciderla a questo punto perché devo fare il tiro per costruirla ok quindi vi aggiungi domande servirà presto per sparare tenente tu mi stai dicendo che devo andare a pescare nel manuale la parte di costruzione crafting ce l'ho ok allora sono le domande di invenzione che in realtà non avevamo fatto al suo tempo ma non avevamo fatto il passaggio alla complessità del tier perché eravamo ancora un po' però la ricacciamo che ci mettiamo meno ok quindi che tipo di creazione è e cosa fa il giocatore risponde è una pistola che trafigge anime ok anime di vivi di fantasmi o entrambi giusto per capirci entrambi ok il giocatore domanda qual è la minima qualità del livello di questo oggetto qual è la minima qualità del livello di questo oggetto allora risponde su magnitude ti direi è una due direi alla fin fine è comunque solo un proiettile non è che lo distrugge estantaneamente eccetera danneggia da potensi sì da potensi praticamente esatto quindi direi due per il fatto che lavora sia sui vivi che sui fantasmi due perfetto e tre quindi cosa di raro di strano o che come dire di controproducente ha questa formula progetto e che lo tiene oscuro oppure lontano dall'uso comune il giocatore risponde allora praticamente intanto è fatto d'osso male poi va a ghiandole cerebrali quindi la ghiandola pineale e quando praticamente spari con questa pistola non fa rumore ma nell'area intorno a te c'è una sensazione praticamente di disagio per gli esseri viventi ok che supera ovviamente anche le barriere fisiche cioè una sensazione che si espande nel ghost field ok quindi disturba disturba oltre la percezione normale diciamo hai presente quando ti ti viene quella sensazione di disagio ok stai male sai che c'è qualcosa tipo il senso di ragno pizzica ok il giocatore domanda che effetti collaterali ha questo questo oggetto se ne ha ok il gm ne sceglie uno dalla lista che dov'è la lista ah ecco le qua i drawbacks allora ok vediamo io direi che una cosa facile da piazzarti addosso è cospicuoso non saprei come tradurlo però sostanzialmente la creazione non va sotto traccia da un più uno all'it se usato un qualsiasi numero di azioni durante le operazioni perché sostanzialmente devi recuperarti i pezzi di cervello e questa non è tanto l'uso che genera come dire attenzione quanto l'approvvigionarti i proiettili va bene ok non credo sia un consumable no no l'oggetto si considera sempre che tu ne abbia nel momento in cui li consumi si sa che dovrai recuperarteli quindi ti becchi il più uno tutto lì l'oggetto resta per sé ha come dire proiettili infiniti insomma non è una cosa che posso sparare fin tanto che mi serve si se sparerai 60 colpi in un colpo ti darò un devolver gain che hai finito le ghiandole però insomma funziona così a posto faccio un'ultima proposta vai a bossignoria dei pazzi ovvero quell'ultimo punto reputazione che abbiamo potremmo spenderlo o per tracciare i movimenti di questa alchimista con flessibile volontà operative oppure potrei spenderla per cercare di aumentare il clock dell'aido della centrale in default alla ferrovia secondo me gli sciacalli o l'aido cioè andiamo una cosa solidifichiamo quello che abbiamo e poi andiamo per cose nuove io andrei per il l'aido ok aspetta ricordami il l'aido è il tizio alla centrale degli spark right che potrebbe essere un gancio per avere informazioni su informazioni operative sulla rete elettrica della stazione ok vai non c'è problema ok informazioni oppure aiuti marginali cose del genere tipo spegnere le luci in una strada una cosa così spegni l'intera stazione grazie vado di consort vai perché me lo porto a zonzo lo porto al nostro locale fate gli amiconi esatto in realtà in realtà mi fa schifo però sì infatti perché questo soprattutto avete presente una di quelle di quelle anime oscure che però non hanno il coraggio di essere effettivamente maligne no e quindi quando tu lo porti in giro tipo lo porti al locale Elisaveta vedi che quella soddisfatta perversione che però lui tipo non avrebbe mai il coraggio di venire qui da solo no quindi quella trasgressione non dichiarata è uno è uno dei tre clienti che abbiamo momentaneamente e ha pagato tenente per quello praticamente meno scambio meno soldi ma un locale è così all'inizio devi fare investimenti metti tutto sul mio conto vai tira bonus dice nessuno vado Elisaveta fa quale conto ok 5 quindi aggiungiamo due tic e ne manca uno poi se servirà gli potremmo dare anche un nome perché per adesso è semplicemente un laido qualsiasi sì sì per il momento è il laido della centrale e tutti al covo lo conoscono così ho portato in giro il laido della centrale cosa fai oggi pomeriggio ah lascia stare oggi pomeriggio sono occupato con il laido esatto ok perfetto io ho ancora un downtime vai allora io stavo pensando praticamente di studiare quello che è successo a te come potremmo definirlo la malattia di tenente malattia spirituale beh tenente ci sono una buona notizia e una cattiva notizia la cattiva notizia è che non vivrà a lungo la buona notizia è che è una malattia col suo nome sop la sintomi di Timur Etman esatto da quanto è? la Timurite allora considera che voi avevate aperto comunque un clock delle sorelle oscure per star dietro a questa cosa quindi posso darti ah è vero è vero quindi loro sono sul pezzo e considera che in realtà abbiamo dei dei ganci aperti da da un po' di scene ti ricordi il il fantasma che tu hai portato a loro quello del esattamente quello faceva parte dei tuoi rapporti con loro diciamo che tu ogni tanto quando loro ti ti convocavano ogni tanto andavi là a bazzicare per curiosità appunto di questa cosa che adesso è fiorita in aspetto fisico che tu puoi effettivamente misurare e contemplare che però comunque già si presumeva una frizione di qualche tipo loro ti avevano commissionato di sapendo che voi facevate quel colpo ti hanno chiesto appunto il il fantasma di un ticherosiano ti hanno dato gli strumenti per prenderlo e lo hai fatto detto questo loro comunque sembrano avere avere un quadro abbastanza chiaro a questo punto della della cosa quindi se vuoi se vuoi tirare per farti un'idea tua altrimenti probabilmente loro comunque hanno qualcosa da dirvi o qualche informazione da vendervi guarda io me la faccio per la testa mia perché comunque a Gaul piace questa malattina certo quindi comunque per i suoi studi gli va bene poi le sorelle diranno qualche due perfetto ci tengo ci tengo a dire il nome del tizio che è stato portato dalle sorelle perché è importante perché prima era urchin il ragno ora è urchin la bajur è importantissimo ricordarlo tutte le volte ora ti chiameremo sindrome quindi la malattia di tenente la sindrome di timur allora quanto è il clock? 4 4 allora tiro su abbastanza facile capire nessun altro le basi di questa cosa visto che ne hai visto come dire i prodromi tiro su stadi puoi tirare comunque col più uno delle sorelle oscure perché sono comunque coinvolte in questa cosa quindi tiro ancora un dado sì perché tiro due volte ho fatto 4 e 2 quindi sono due tic sono due azioni eh no ho tirato due dadi ok allora il 4 è solamente due tic perfetto però chiudo perché ho ancora due tic di analyst ah perfetto ok quindi timur tu dovrai passare un bel po' di tempo sul sul lettino di no nella barra oddio nella barra di deprivazione sensoriale certo che non serve tra parentesi lo fai solo per infastidirlo solo perché lui non ci ha sputtato sopra l'altra volta dalla barra vedi vedi al tavolo oltre dall'oblò vedi garrotte che sta facendo piani sulla mappa e sta conficcando nuovi pugnali perché abbiamo bisogno di altro conio per finire di fare amicizie con i sciacalli pagare gli sfoghi del dell'aido eccetera eccetera e comunque in quest'azione di coltellate sul tavolo c'è anche un continuo irritmico tung 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 è la fronte di tenente contro l'oblò ma garrotte ovviamente ti ignora perché è stata lì dentro anche lei dunque sa com'è il monolocale in realtà davvero lei era è la barra e mi piace un sacco immaginare che effettivamente a un certo punto garrotte ti guarda con lo sguardo per dire non serve che stia lì dentro vero e tu tipo fai quel cenno per dire sì non serve però è divertente esatto sì sì e c'è questo sguardo d'intesa del tipo di chi c'è già passato e vabbè è normale così chiudi uno dentro una barra e lo lasci lì perché è gaul esatto ok cosa ti posso dire di questa sindrome una cosa abbastanza peculiare secondo te ti ricordi quel fantasma appunto che si era particolarmente affezionato a tenente ecco e sta ancora frequentando il suo corpo con notevole come dire impegno e con le tue misure ti immagino con questi strumenti ad arco elettrico con lancette che oscillano e cose del genere ti rendi conto che in pratica il fantasma si sta in qualche modo rigenerando si sta riprendendo in coerenza era era in parte distrutto in parte in parte consumato e in pratica sta prendendo questa afflizione per in qualche modo risistemarsi dipende ancora da tenente non se n'è mai andato in realtà semplicemente è latente e non non interagisce con l'esterno si manifesta ogni tanto in questa forma materiale ma sempre in prossimità di tenente semplicemente come dire come appunto apparizione e appunto sta drenando dell'esistenza di tenente quindi in poche parole non l'ha posseduto ma è come se lo possedesse cioè è dentro il tenente diciamo che è dentro il tenente quando sarà pienamente ristabilito probabilmente potrebbe tentare di prendere possesso anche del corpo quindi scacciare la la coscienza di tenente e prenderne effettivamente tentare di prendere il controllo oppure altra come dire ipotesi di cui sei abbastanza convinto nel momento in cui si fosse ristabilito cosa che potrebbe capitare con la morte di timur oppure se timur fosse abbastanza resiliente poco prima della morte di timur a quel punto il fantasma ristabilito potrebbe essere libero di andarsene come anche di rimanere però diciamo si romperebbe il legame tra i due con la morte di timur no con la completa guarigione diciamo del fantasma che potrebbe implicare come no la morte di timur dipende quanto forte è la sua forza di volontà io mi ricordo solo da dove l'ha preso questo da dove se l'ha acchiappato questo fantasma che è stato nel famoso tempietto dedicato al culto dei bastardi vorrei ricordare esattamente andate nei tempi maledetti senza protezione poi ve le pigliate le malattie chi non rischia non rosica quella l'alone viola che ha timur amica colpa sai quando inchiodi la gente alle pareti senza le dovute precauzioni in un tempio maledetto ogni tanto queste cose capitano penetri le persone senza protezione allora era su un piatto d'argento allora io aprirei una scena velocissima se me lo concedete dove praticamente Gaul fa la 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 diagnosi attenente mi immagino con la lavagnetta e il gesso allora io apro la bara tra parentesi quello che ho deciso tu Luca cioè la bara è proprio quella che usa Gaul quindi è piena di ghiaccio cioè sì 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 certo quindi dimmi tu come ne esci in manica di mutande sì sì beh certo mezzo congelato mezzo viola praticamente peggio di prima barcolla in avanti tipo Frankenstein poco prima di andarsene a quel paese con la barchetta Garrotto ti butta sopra una coperta di lino beh sono guarito si sieda pure tenente guarito no no questa era solo la diagnosi vuole sapere da cosa è afflitto precipita sulla sedia praticamente battendo i denti e batte le nocchie sul tavolo in assenso come per dire sì io gli verso qualcosa di tipo della roba calda della brodaglia calda tipica di Duskwood gliela molo gliela lancio faccio scivolare la tazza è il liquido di imbalmazione riscaldato sì probabilmente sì capito è roba di decomposizione varia non vuoi sapere cos'è e alcolico beh tenente la malattia che l'affligge non è una vera e propria malattia questa è una buona notizia la pessima notizia credo che sia il fatto che lei è attualmente l'ospite di un fantasma una relazione affascinante la vostra se me lo concede di solito i fantasmi hanno la tendenza a prendere il possesso dei corpi che ospitano e a muoverli come dei burattini nelle loro mani invece nel vostro caso lo definirei più parassità è come il rapporto che esiste tra un essere umano e una tegna e il fantasma è la tegna che vive dentro di voi e si nutre di voi sarà il fantasma di un nobile a Corosino non ne ho idea di chi sia il fantasma credo però i nobili abbiano detto questo beh credo che come le dicevo la buona notizia è che non è posseduto quindi c'è qualche speranza il fantasma potrebbe abbandonare il suo corpo e lo facesse beh deve quantomeno ci sono due opportunità due condizioni che possono accadere perché il fantasma libera il vostro corpo la prima è che lei muoia tenente ma la reputo forse la più per quanto la cosa non mi darebbe troppo fastidio la reputerei la più scomoda in questo momento e la seconda è che lei riesca a sopravvivere alla consunzione del fantasma ma ciò la renderebbe abbastanza inutile per i nostri piani è molto peggio tecnicamente in questo momento vi viene ad entrambi una bruttissima sensazione Garrotte è sparita visto che state facendo lunghi discorsi e c'è quella sensazione che hai sperimentato e registrato nell'utilizzo della tua pistola pineale fondamentalmente c'è Garrotte nel cortile che sta sparando un bersaglio per capire come funziona la pistola ogni volta che spara gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su youtube potete rimanere in contatto con noi su facebook instagram e alla mail gentediruolo gmail.com per commentare criticare chiedere o suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare grazie a tutti grazie a tutti